Focus Napoli, 5 bellezze come se ne dici dell'anticipo di venerdì che abbiamo visto vincere a livello molto pesante, a livello molto netto, la Juventus il Napoli sulla Juventus è stata una partita dove il Napoli ha voluto disintegrare la Juventus, il Napoli l'ha preparata sul piano soprattutto atletico perché il Napoli correva di più della Juventus andava su tutti i palloni, aveva la voglia di lottare e distruggere la Juventus e l'ha fatto il primo tempo a mio parere è stato un primo tempo molto equilibrato, però il Napoli il secondo tempo ha deciso di disintegrare la Juventus sotto tutti i punti di vista la Juventus non perdeva 5 palloni da, erano almeno 30-35 anni, cioè è una cosa che questa partita è storica ed è paragonabile alla partita vinta in Supercoppa italiana sempre contro la Juventus questa partita qua entrerà per me e a mio parere Giovanni negli annali storici della Serie A poi se vogliamo parlare della partita dal punto di vista tecnico tattico il Napoli ha fatto una partita ragazzi che tutti e 11 sono entrati per 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 essere superiore all'amversario cioè tutti uno di tutti non voglio fare i nomi di Osimena e Cavaraccelia perché se no è troppo è troppo scontato ma a me ragazzi i due terzini del Napoli di Lorenzo e Cavaraccelia cioè di Lorenzo e Mario Rui sono due guarda non tanto di Mario Rui ma di Lorenzo ragazzi si parla pochissimo di quel cioè si parla pochissimo di lui è un terzino ragazzi straordinario ci ha fatto la pace 200 all'ora ma poi si è visto anche pure l'annata che sta facendo anche Mario Rui perché comunque Mario Rui sta portando assist a getto questa stagione cosa che comunque negli anni scorsi è sempre stato il classico terzino lì di copertura criticato criticato esatto bravo invece quest'anno sta facendo vedere comunque cose molto molto aggrege della sua della sua qualità offensiva tanto di cappello a spalletti che ha messo in campo una signora squadra quest'anno i risultati lo stanno anche facendo no poi un altro appunto voglio fare che Napoli anche gli anni passati anche l'anno scorso anche contro l'Inter si sono permessi di criticarlo uno di tutti se ne parla poco è Meret che Meret ha salvato una palla sul su un retropassato no retropassato su una deviazione al quarantasiesimo di di Rachmani che se quel pallone entrava dentro era due e Meret ha fatto una parata che non lo evita nessuno una palla tirata forte in mezzo deviazione e tu di riflesso gli la levi dalla porta cioè quello era due a due cioè forse qualcuno se passa avanti qualcuno pensa cinque gol a Juventus sì ma Meret ha fatto due parate che non si viedono a nessuno forse forse qualcuno guarda i gol guarda la prestazione degli attaccanti degli esterni ma Meret ragazzi ha fatto due parate che straordinarie sì infatti quest'estate quest'estate pure c'è stato ci sono state tante voci di mercato hanno distrutto a sto portiere che tutto rispetto è pari a Donnarumma sì sì no è un talentoso che gli è mancata in passato un po' di sicurezza però diciamo quest'anno anche grazie a chi li gioca avanti la sta comunque premiando